Il Grotta ha avuto vinto la gara di Cicciano per irregolarità di tesseramento a parte dei giocatori della stessa squadra, quindi diciamo che con questa classifica, tre punti dal Montesarchio, nonostante il grande cammino che sta facendo il Montesarchio, il Grotta, nonostante abbia perso lo sconto diretto e lì ad un tiro di scopo le cose si stanno rimescolando. Questi due punti che noi in verità ci aspettavamo perché sapevamo di una situazione di irregolarità per due calciatori del Cicciano, ci consentono di guadagnare ulteriori due punti sulle squadre che ci inseguono. La nostra preoccupazione è soprattutto per chi sta dietro. Ieri avremmo affrontato il Guardia con tre punti di vantaggio, oggi domenica l'affronteremo con cinque punti, per cui il Guardia è la squadra più vicina a noi, quindi seconda in classifica. Questo ci rafforza un poco per quanto riguarda le aspettative perché dovessimo ottenere un risultato pieno metteremmo ulteriormente il Guardia da distanza ragguardevole. Senta Salvio, parlando delle altre gare, il Montesarchio è atteso da un incontro molto molto, il vostro è un incontro importante, ma il Montesarchio in casa della Virtus Avellino oltretutto si gioca di sabato, anche lì è una cosa anomala perché sempre ha giocato di domenica, è arrivato il comunicato che gioca di sabato, quindi diciamo che è a porte chiuse. Diciamo che è una gara importante sotto tanti aspetti adesso, il Montesarchio è costretto a cercare di far quanto più punti possibile anche perché l'altra domenica c'è addirittura del derby. Il Montesarchio ha il vantaggio di dover guardare solo a se stessa, una squadra che 7 partite e 21 punti c'è poco da dire, una squadra che fa sempre bottino pieno per cui penso che debba guardare solo il suo cammino perché per quanto gli altri possano vincere sempre non potranno mai raggiungerli, per cui è relativo, devono contare solo su se stessi. Noi invece è un discorso un po' diverso, dobbiamo cercare, ripeto, di ottenere il massimo domenica pure perché così teniamo lontano sia il guardia sia le altre squadre che sono terze in classifica come Cervinara, Bisaccese, Carotenuto, lo stesso Ponte, per cui per noi è fondamentale questo in chiave play-off. Senti Salvi, un'ultima domanda che riguarda una tua ex squadra che è il Cervinara. Cervinara che in settimana si è riapprovato del tesserino di Pace che è un 97 e può essere un giocatore utile alla causa, tu l'hai avuto l'anno scorso, ha sempre giocato con te. Diciamo che con un altro 97 nello scacchiero che sono come manna dal cielo il Cervinara acquista qualcosina in più e la partita col Cicciato potrebbe essere quella della classica svolta. Pace è un ragazzo che con me l'anno scorso e prima che ancora che arrivassi io ha sempre giocato quindi ha fatto la sua esperienza nel campionato di promozione, un 97 bravo che può giocare tranquillamente centrale sostituendo un qualsiasi giocatore pure di esperienza, è bravissimo per cui sicuramente è un buon acquisto per Cervinara, gli offre qualche soluzione in più. Ritengo che sicuramente domenica il Cervinara farà la sua gara e riuscirà ad ottenere anche il risultato pieno perché ha tutti i mezzi per farlo, soprattutto poi tra l'altro in casa dove c'è l'apporto considerevole del pubblico e poi il Cicciano fuori non è che stia facendo tanto tanto bene, per cui vedo sicuramente avvantaggiato il Cervinara con la possibilità di fare i tre punti. Poi riguardo al derby, i derby sono sempre partite che si sottraggono ad ogni pronostico, l'importante è che loro innanzitutto puntino a vincere la partita di domenica per non staccarsi troppo per la loro classifica perché non vincere domenica per loro sarebbe pregiudizievole per il resto del campionato.